Ciao, io sono Gianetta e sono molto contenta di invitarvi tutti quanti al nostro Disney Carnival Party. Sarà il 26 di febbraio, Matteo Rosso, sponsorizzato di Oxford School di Nottebelluna. Facciamo un laboratorio per bambini e anche un concerto di musica di Disney che conosce tutti in chiave jazz. Io sono cantante e avremo anche tre altri amici miei fantastici musicisti, Damiano Maria sul basso, Antonio Santini sulla batteria e Ria Pizzolito sul pianoforte. Adesso per farvi un piccolo assaggio, Damiano tu per camminare cosa vuoi essere? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.